Lucio ha scritto per tanti, non solo per lui, anzi, ha iniziato a scrivere per gli altri e tra questi, oltre ai grandi Dick Dick, a Patti Bravo, Little Tony, ha scritto per tanti gruppi anche di quel periodo, un gruppo erano i ribelli, questo è un pezzo che a noi piace molto e si chiama Nel sole e nel vento, nel sorriso e nel pianto, vediamo se vi piace anche voi. Mio padre disse, ragazzoni, se vuoi andare a Dio, mia madre disse, ragazzoni, se vuoi andare Gambino mio, ti guiderà il Dio, la solitudine si parla a me e l'ho pagata anch'io. Mio padre disse, ragazzoni, se vuoi andare a Dio, la solitudine si parla a me e l'ho pagata anch'io. Mio padre disse, ragazzoni, se vuoi andare a Dio, la solitudine si parla 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 a Dio. Mio padre disse, ragazzoni, se vuoi andare a Dio, la solitudine si parla a Dio, la solitudine si parla a Dio. Mio padre disse, ragazzoni, se vuoi andare a Dio, la solitudine si parla a Dio, la solitudine si parla a Dio, la solitudine si parla a Dio. Mio padre disse, ragazzoni, se vuoi andare a Dio. Mio padre disse, ragazzoni, se vuoi andare a Dio, la solitudine si parla a Dio. Grazie.